Il Presidente della Repubblica, Napolitano, parla di un incontro andato benissimo. L'ambasciatore italiano presso la Santa Sede precisa però che dici, non si è parlato. Certo, la svolta di Monti è arrivata proprio alla vigilia del tradizionale incontro per l'anniversario del concordato fra Stato e Chiesa. Da un lato Bertone e Bagnasco, dall'altro Napolitano, i Presidenti delle Camere, Monti e dieci ministri, la più ampia delegazione governativa di sempre. Monti incontra i vertici vaticani in un bilaterale prima delle celebrazioni. Ieri il suo annuncio, dopo anni di dibattito sull'Ice alla Chiesa e agli enti no profit, si cambia. Addio esenzione per le attività anche solo in parte commerciali. Un annuncio dato non a caso a Strasburgo, dopo un esposto dei radicali che anche oggi manifestano all'ingresso del vertice, l'Unione Europea aveva avviato infatti una procedura di infrazione contro l'Italia e la condanna era quasi certa. Adesso Bruxelles parla di passo avanti decisivo e annuncia il possibile stop di una procedura che avrebbe portato la Chiesa a pagare anche gli arretrati dal 2005. Le reazioni politiche sono in gran parte positive. Il precetto evangelico del dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare fa riferimento proprio al tema dei tributi. Mi pare che sia pure con un qualche ritardo arriviamo a un rapporto più limpido tra Stato e Chiesa. Un gruppo di parlamentari di PD, PDL e UDC però mette in guardia Monti. Non si tocchi chi fa del bene, non si arrivi a far pagare le scuole parificate, le mense dei poveri, le attività sportive o culturali, altrimenti faremo barricate. Così casini. Noi dobbiamo essere grati alla Chiesa Cattolica per la supplenza che fa in termini di assistenza e di solidarietà anche nella latitanza delle strutture pubbliche italiane. Tutti gli esercizi commerciali finalizzati ad attività diverse è giusto che paghino ricci, per cui la posizione di Monti è ineccepibile ed è in linea con quanto la maggioranza tutta e in tutte le sue componenti ha sempre dichiarato. Se c'è una cappella aperta al culto, se è una residenza per preti, suore o frati, non importa, non basta se l'immobile è utilizzato anche a fini commerciali, se serve a far profitto. La Chiesa pagherà la tassa sugli immobili, proprio come tutti i proprietari, che sia una scuola, un'università, una clinica o un bed and breakfast. Il governo vuole chiudere l'annosa questione e dare lo stop a quello che è stato definito non solo un privilegio, ma una vera e sleale concorrenza, una distorsione del mercato additata anche dall'Europa dopo l'esposto dei radicali. Ovviamente per gli edifici che la Chiesa utilizza solo ed esclusivamente a scopi religiosi e assistenziali, dalle parrocchie alle mense per i poveri, l'esenzione dell'Imu Resta. Ma quanto vale quel patrimonio per lo Stato? La questione è tutta aperta. Di sicuro la Chiesa dispone di 8.779 immobili destinati all'istruzione e alla cultura, 4.712 centri di sanità e di assistenza, 50.000 strutture per il clero, dalle sedi vescovili ai conventi. Tradurre in cifre quel gettito è difficile, manca un vero censimento. Per il quotidiano dei vescovi l'avvenire si tratta di 100 milioni di euro appena, ben diverse le altre stime. Lanci, l'Unione dei Comuni, parla di 5-700 milioni di euro. Per l'Ares, l'associazione di ricerca e sviluppo, si tratta addirittura di oltre 2 miliardi.